Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, quello che vedete alle mie spalle è il famosissimo Tempio Induista di Prambanan è un tempio famosissimo che mi è venuto in sogno questa notte un sogno molto particolare, un sogno nefasto perché vedeva i nostri personaggi impostori della politica impalati con una morte terribile, sofferenti, pieni di dolore e il dio del Tempio di Prambanan mi è venuto in sogno offeso ero offeso perché come voi saprete io di recente ho chiesto al dio buddista di un altro famosissimo Tempio quello ai piedi del vulcano sempre qui nell'isola di Java e il Tempio Induista mi ha richiamato mandandomi degli dèi in sogno e mi ha detto guarda noi ci siamo offesi perché ti sei rivolto ai buddisti in realtà il problema te lo possiamo risolvere anche noi per questo mi sono portato fino qui alle pendici del Tempio adesso mi sono dovuto arrampicare sopra i tetti per potervi donare questa bellissima inquadratura sono sopra i tetti vi faccio vedere qui in Indonesia ho avuto un permesso particolare ecco questo il tetto, è qua un tetto, sono arampicato sopra il tetto qui è dove ho appoggiato la telecamera e questo è il bellissimo Tempio qui sotto non so cosa fanno ma cucinano qualche cosa la segnità sembra che eccoci qua allora a questo punto non mi rimane altro da fare che rivolgere la preghiera al Tempio di Prambanan secondo il rituale liturgico che mi è venuto in mente questa notte nel sogno che ho meditato ho avuto questa visione e ci penso io a togliervi dagli zebedei gli impostori della politica Dio del Tempio Prambanan, 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 Ti invoco, vieni a me Dio del Tempio risolvi i problemi dell'Italia toglici dagli zebedei gli impostori della politica e riporta in Italia uno status di democrazia adesso per attuare la preghiera devo girare tre volte su me stesso in senso anti-orario Prambanan, 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 Dio del Tempio accogli la mia preghiera non preoccupate questo è il rituale religioso per cui è ricco di segni di spiritualità fa parte del rituale non preoccupatevi più di tanto sono normalissimo e ho invocato adesso lo spirito induista affinché ho chiesto a lui che interceda negli avvenimenti della politica italiana ci tolga di mezzo gli impostori della politica chiaramente in metodo incruento nefasto devono soffrire e il dio induista ci aiuterà a riportare uno status di democrazia in Italia ciao a tutti